Gabe Yule, Gabe Yule, invece di pensare a Half-Life 2, episodio 3, cosa fai? Cosa fai, barile di merda, vai sotto il Fortress a vendere i capelli ai bambini che li comprono a 6 euro? Mi raccomprisco di vergogno, è rimasto insieme a voi, io nemmeno mai Esistante, mi non so, come svergogna la pochissima, spudora Esistante, mi non so, come svergogna la pochissima, spudora Esistante, mi non so, come svergogna la pochissima, spudora Esistante, mi non so, come svergogna la pochissima, spudora Granddad! Oh, let's check it out. Granddad! 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 Gratувати! Granddad! 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 ούμε! Il mio cuore, non è più facile. Non c'è mai mai per il tuo tempo. Non c'è nulla, ma non è più difficile. Non c'è nessun film. Non c'è più difficile. Grazie a tutti 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 Yeah Grazie a tutti Grazie a tutti Yeah Yeah Grazie a tutti